La deposizione della corona d'alloro in piazza Monumento è il simbolo stesso della liberazione. Quest'anno il gesto della deposizione è stato affidato all'assessora all'urbanistica Nico Balice, in sostituzione del sindaco Vincenzo Ferrazzano, impossibilitato a presiedere l'evento. Presenti le autorità civile militari che hanno accompagnato questo momento significativo. Balice ha ricordato subito dopo la deposizione della corona l'importanza di questa giornata. Queste le sue parole. La 79esima giornata della memoria che ricorda il sacrificio di tanti cittadini che con la loro morte ci hanno ridato la libertà, un momento storico importante con la consapevolezza che la pace sia un valore da rispettare. Il vice sindaco Ferrazzano è influenzato in verità e indegnamente lo sostituisco oggi. L'affluenza di gente di questa mattina dimostra come la memoria sia qualcosa da rispettare fortemente. È il 79esimo anniversario del 25 aprile che è un giorno fondamentale perché è il giorno della liberazione. È un concetto importante perché poi è un concetto che anticipa quello di libertà perché la liberazione si ottiene col sacrificio delle persone, delle tante persone che hanno lottato per liberare la nostra nazione dall'oppressione. Un giorno di memoria ma soprattutto di storia. È una storia importante e questa piazza lo dimostra. È una piazza simbolo e crediamo che già solo l'ambiente in cui viviamo questo momento sia un ambiente che ci riporta a quel periodo.